Spezia, ufficiale l'esonero di squadra affidata all'Orieri. La Spezia dopo quella della Salernitana, con Nicola che verrà sostituito da Paolo Souza. Salta un'altra panchina in Serie A. E quella dello Spezia, che, dopo 24 ore di attesa rispetto a una decisione già maturata. In attesa del via libera da parte del patron Robert Platek, impegnato a New York. Ha esonerato il tecnico Luca Gotti, che dopo un incoraggiante avvio di stagione. Paga gli ultimi pessimi risultati e un rapporto non più sereno con il gruppo. Squadra al momento affidata al suo vice Fabrizio Lurieri.